Oggi in Confesercenti si presenta questo progetto, un progetto ambizioso sul turismo esperienziale. Presidente, quali sono gli obiettivi e com'è nata questa idea? Innanzitutto bisogna ringraziare Confesercenti Abruzzo che ha avuto la determinazione e una visione lungimirante, nonché necessaria per la nostra regione, che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita oggettiva ed esponenziale del turismo attivo ed esperienziale. Mancava una rappresentanza autorevole e efficace per tutto quel mondo di quei professionisti, quelle figure che a vario titolo, ma comunque qualificati, operano e cercano di offrire in maniera integrata e qualificata la migliore proposta di turismo attivo in Abruzzo e per l'Abruzzo. Tauci, oggi si parla di turismo esperienziale, ma il turismo in generale è un settore fondamentale per la nostra regione, voi come Confesercenti puntate molto su questo. Assolutamente sì, è il business più importante, è l'economia più importante della nostra regione, perché è quell'economia che fa comunque vivere un territorio. Puntiamo tanto sul turismo, in questo momento stiamo attivando una nuova federazione per tutta quella che è l'esperienza che si fa all'interno del nostro territorio. È un momento importante perché, come diceva poc'anzi il Presidente Paolo Setta, è il modo per far confluire all'interno di una federazione tutte quelle professionalità che oggi servono per far vivere il turismo. Infatti uno dei primi obiettivi di questa federazione è la lotta all'abusivismo, perché abbiamo una forte concentrazione di persone che la mattina si svegliano e pensano di poter accompagnare turisti in giro per l'Abruzzo. Così non va bene perché si crea un doppio danno al turismo. Si fanno tornare i turisti a casa senza quella giusta esperienza, ma soprattutto si crea anche un danno di carattere erariale. Quindi è una federazione che vuole accogliere tutti perché c'è bisogno di un sistema che sia a rete di tutta una serie di professionisti. Il turismo in questo momento ha bisogno anche di questo perché l'Abruzzo non è seconda a nessuno per territorio, quindi dobbiamo solo saperci organizzare bene.